mi chiamo andrea sono in compagnia di cristian coccolo buonasera a tutti gli amici di sky oggi faremo quanto costa il tuo outfit allora partiamo dalle scarpe quante le pagate le scarpe le scarpe sugli 80 euro diciamo no lo prezzo sicuro ne sarebbero fanno conto finale ci parlato normalmente come quasi 80 mincimo 80 ok calzetti calzetti 10 euro dai 10 euro dai 10 euro no i scarpe 80 abbiamo miso tanti i guasetti i guasetti 10 euro capotto 80 80 euro ok il filpino sotto vediamo acquaio 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 minimo 50 euro 50 euro 50 le montagne o leggi insomma ma la vicina su un padre acquaio in carica questa morte su belli 60 euro 60 euro si PIZZA